Musica Benvenuti a casa mia, ci troviamo alla pista della Locke, panorama stupendo, giornata stupenda e la pista ovviamente con una neve ideale per sciare. Attorno a me un sacco di bellissime montagne, il gruppo dell'Arsec, in fondo il Sasso Lungo e dietro ci sono poi Cima 12 e Cima 11. Su questa pista io sono praticamente cresciuta. Il primo tratto della pista come potete vedere è abbastanza facile, ideale per prendere il ritmo e trovare le giuste sensazioni per poi migliorarle strada facendo. Ci troviamo in prossimità del muro, poche porte dopo la partenza degli slalom. Qua bisogna cambiare assetto, cercare di portarsi ancora più avanti per affrontare al meglio il muro che risulta sempre molto tosto. Dietro di me potete vedere la pendenza vera della pista e comunque da qua in poi si può veramente ingranare una marcia in più e veramente cercare di spingere a tutta perché arriva un pezzo facile dove si può veramente sciare forte. Ecco lo shoes d'arrivo. La particolarità di questa pista è che comunque si arriva direttamente in paese la chiesa davanti a noi. Gli stranieri sono sempre molto contenti di allenarsi qua. Le condizioni sono top, la neve è sempre bella ghiacciata e riesci veramente a preparare una gara al meglio. Sulla pista LOK si disputano un sacco di gare tra Coppa Europa, gare internazionali FIS e Junior e inoltre ospita lo Ski College. Grazie. Grazie a tutti.